buongiorno a tutti quanti dio ci benedica oggi volevo fare questo filmato del mio giardino di quest'anno 26 maggio 2022 quello che il signore in questo momento ci ha dato in quest'anno che la gloria del signore sia sempre in eterno che dio benedica tutta l'umanità di non abbandonarsi mai perché dio da sempre una possibilità a chi ha fede a dio attraverso gesù e questo è un grandioso miracolo che dio fa a chi veramente sta seguendo la sua parola per la gloria sua che la gloria del suo figlio gesù cristo quello che vi chiedo è di non abbandonarvi mai quando avete qualcosa inginocchiatevi e pregate gesù mettendo tutto ai piedi di gesù e gesù provvederà a portare tutto al nostro padre celeste dio d'amore e con questo voglio ringraziare il signore per quel che lui ha fatto in questi lunghi anni nella nostra vita e nella nostra casa venite dietro alla preghiera padre santo dio d'amore nel nome del tuo figliolo gesù cristo oggi vogliamo venire a te attraverso il tuo figliolo Gesù cristo ai suoi piedi dando ti onore gloria e maestà per tutto quello che tu hai fatto e che farai in questi giorni attraverso tutto quello che tu vorrai grazie padre grazie per questo nuovo giorno grazie per l'amore grazie per la salute e grazie per la prosperità che tu darai sia a me alla mia casa alla mia famiglia e tutto il mondo intero signore metto tutto nelle mani del tuo figliolo gesù cristo con gioia e con amore sapendo sicuro che gesù oggi trasporterà immediatamente ogni cosa a te grazie padre nel nome di cristo gesù che tu l'hai benedetto in eterno amen bene cari nella grazia adesso vi farò vedere il mio giardino che dio ci benedica amen adesso ve lo faccio vedere globalmente sono dei giardini è una valle meravigliosa in questo momento vedete che ci sono delle fave piselli cipolle acce alberi di giliegio che stanno portando molto frutto alberi di pruno pere mele questa è la famosa barracca che vi ho presentato altre volte ci sono altre barracche c'è il gioco dei bambini ecco ci sono anche gli altri giardini ve li faccio vedere altre barracche ogni lotto c'è la sua barracche queste sono piselli che stanno fiorendo vedete che sono belle le fave vi invito ad assaporarli anche che siamo a distanza di chilometri li invito ad assaporarli sono bellissimi io ho tanta gioia nel cuore vedendoli soltanto vedendoli mi riempio il cuore vedete quando ce ne hanno ecco questo è un albero di pruno queste sono zarche che già stanno facendo il seme zarche lattuche queste sono le famose ciliegie regina si stanno maturando c'è di qualcuna che già sta avendo del rosso fra qualche settimana 2 e incomincerò a mangiare ciliegie ce ne sono moltissime battuca rossa quelle sono tutte fave questo è fagiolino vedete quando ce n'è tutto fagiolino questo albero di pruno cipolle cipolle acce cipolle questo è un albero di fico vedete c'ho anche le fico quelle nere e quelle bianche che le farò vedere fra poco fave fave questo è un albero di ciliegio vedete ce ne sono tutte le qualità queste quelle un poco piccolino ma sta portando anche frutto gloria a dio questi sono cipolli sempre qui ci sono i ceci ceci tutto il filagno è di ceci questo albero grande è di noce guardate com'è grande è circa 25 metri alto o 30 metri massimo ci sono noce per tutti l'attuca rossa albero di pruno dove vedete questi bastoncini è tutto seminato piselli fave che dovrebbero uscire fra qualche settimana in produzione perché ha piovuto adesso quest'anno abbiamo avuto una grande siccità adesso il signore ci ha dato questa possibilità che ha piovuto e in questa settimana o l'altra affioriranno ogni bastone che ci è messo è seminato vedete tutti questi bastoncini che vedete sono tutti buche seminate che uscirà qualcosa dio volendo anche qui abbiamo fagiolino vedete che è uscito questa settimana qui c'è un altro albero di fico questo è fico nera vedete è piccolino ma nei prossimi anni porteranno frutto dio volendo qui ho seminato tutto piselli questo è tutto dove vedete tutti questi bastoncini a filagno sono piselli che dovrebbero uscire in questa settimana dato che è piovuto quello è un albero di olive c'è anche l'olivo è piccolino ma ecco ecco ho sistemato il proiettore ecco queste sono fragole sono già affacciate le fragole presto mangerò anche le fragole questi sono ceci albero di pruno e albero di pere adesso ve lo mostrerò più vicino ceci piselli albero di pruno e albero di pruno ecco queste sono pezzi albero di pere albero di pere vedete già c'è il frutto in maturazione vedete già c'è il frutto in maturazione vedete già c'è il frutto in maturazione perfetto perfetto questi sono altri alberi altri giardini ve li mostro ecco ecco albero di pruno cipolle carote queste sono carote fiori fiori c'ho anche i fiori vedete quante cipolle patate cipolle la zona verde in questo non ci sono pomodori questo è un tunnel ce lo mostrerò dentro qui sono tutti stappo uno faccio vedere in maturazione ecco vedete come sono grandi vedete c'è diversi tipi vedete questa è quella rossa quella è quella bianca vedete ancora si fanno ancora più grandi sparaghello zarche stanno affacciando le truque queste sono le zarche si stanno affacciando vedete questo è un altro albero di figo bianco c'erano diversi figo in tutti i colori alberello alberello li pruno questo è un altro albero di ciliegie vedete che c'è anche frutto quest'anno hanno portato tutto il frutto gli alberi che ho seminato diversi anni fa guardate come è alto già è in produzione che vi faccio vedere più da vicino ecco ecco perfetto questo è un altro albero c'è anche frutto questo è pruno dolce bianco ecco sono tutti in produzione fave uva c'è tutto tutto alla gloria di Dio questi sono tutti se vi dovete fare l'insalata potete vedete come sono grossi tra poco purtroppo andranno perduti ce n'è una marea una marea proprio guardate tutte queste sono tutte uguali tutta questa zona e beverò il seme che ci posso fare ma se siete nei rintorni avvicinate ve li posso offrire gratuitamente ecco ho anche la cucuzza ecco questa è la cucuzza quella lunga per fare la pasta cucuzza lunga per fare la pasta lo spezzatino ecco questo è tutto seminato dove ci sono tutti questi bastoncini doveva uscire fave, piselli tutto ciceri tutto seminato settimana prossima escono fuori perché ha piovuto ceci carote queste sono cucuzze 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 fragole 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 tomato pomodori 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 cipolle fragole fragole fave fave cipolle qui dove ci sediamo all'ombra quando fa caldo tavolino cipolle guardate quante sono belle stanno incrociando cucuzza lunga fave tragole 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 cucuzza lunga ho messo una dentro una grasta grande cucuzza lunga male ecco far giunghe pinocchi selvatici fragole Questa è quasi matura. Tragole, fave, fave, qui ho i finocchi selvatici. Fave, 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 fave. Fave, fave. Fave, fave. 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 Fave, fave. 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 E fate la marmellata a settembre. Questo è un albero di pruno. Fave. 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 Albero di pruno. Fave. 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 è un albero di pruno, quello settembrino, quelli lunghi, vedete, già si vedono che sono lunghi, vedete come sono lunghi, guardate che grande, e ora si dovrebbe mangiare tutti questi frutti, potete venire, ve li offro gratuitamente, Dio me li dà e io li dono. Gloria a Dio, gloria a Gesù, la prenombra quando il sole è forte. Questo è un altro albero di pruno. Grazie a tutti. Cicoria, per mantenere gli intestini buoni e puliti. Queste sono cucuzze lunghe. Nel tunnel ci sono i maloni. Tra poco li trappianderò il petrosino. Cicoria. Cicoria, cucuzze, citrioli, peperoncino, fragole. fagiolino. fagiolino lungo, quello che si fa alto. Cicoria. Cicoria. fagiolino. fagiolino. Fargo. ciliegio vanno maturando patate il gioco dei bambini queste sono le pesche guardate che è caricata quest'anno ho promesso di farci il lavaggio ogni settimana e sembra che stanno maturando perfettamente bene sperando che nessuno le disturbi gli insetti o altro non 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 Questo è un albero di mela. Questo altro è un albero di mela pure. Ci sono già i frutti. Pruno, albero di pruno. Raccoglimento dell'acqua, dal tetto. Raccoglimento dell'acqua. È un paradiso terrestre. Albero di pruno. Peselli, tomate, pomodori. Patate. Patate. Cucuzza, zucchine. Patate. 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 La truca. La truca. Cipolle, ciliegie, guardate che grande è quest'albero di ciliegie, quante ce ne sono. Che se le deve mangiare? Glorie a Dio. Alleluia. Pesche, pupuzza, zucchine, fragole. Guardate quando c'è una pesca in quest'albero, è molto caricata. Ciliegie. Ciliegie. Glorie a Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Qui c'è un altro albero grandissimo di ciliegie. Ce ne sono due, uno dolce e c'è l'amarema. Si vede questo piccolino di qua è amarema ma è molto caricato. Chi soffre di diabete li può mangiare benissimo. Albero di ciliegie. Amarema. Questo è amarema. Guardate che caricato. Amarema. Questo piccolino. Invece questo grande albero e ciliegie. Guardate che alto. Gloria al Signore. Alleluia. Gloria al Signore. Tutto caricato. La tempesta. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. C'è un altro albero di ciliegie. In un'altra parte del nostro giardino. Ve lo mostro di lontano. Ecco. Pera. Pomodoro, lampicante. Pere. albero di pera, puma. Guardate quanti alberi che ci sono, tutti fruttiferi. Quest'anno il Signore ci sta benedicendo mele. Zucchini. Cavoli. Petrosino. Zucchini. Cavoli. 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 Fico. Vedete il fico nero. Già c'è il frutto. Tomate. Comate. 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 Impos gratuito. Comate. 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 Pizzarchi, quanti bei alberi di frutto. Il Signore ci ha benedetto quest'anno anche che la siccità, guardate queste pesche, sono già belle grosse, bellissime, guardate che sono grosse. Il Signore ci ha benedetto quest'anno. Sarà stata la siccità magari perché gli alberi ci soffrono quando c'è molta acqua, si ammalano. Comunque non possiamo dire niente perché brutta la siccità è brutta e molta acqua, ma il Signore sicuramente ci benederà ancora più migliore nei prossimi anni. Questo è il ciliegio. Il Signore ci ha benedetto. Grazie, grazie mio Dio, grazie mio Jesus. Grazie per ogni cosa che tu fai per noi. Tuoi figlioli, ti benediciamo e ti adoriamo e ti glorifichiamo per tutta l'eternità. Amen. Alleluia. Grazie. Tomate, zucchine, peperoncino. peperoncino, peperoncino, peperoncino. Peperoncino, 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 peperoncino. Grazie. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. domande ciliegie 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 tutti ciliegie gloria al signore pruno settembrino la 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 no 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 questo è fruno settembrino, guardate che grosso, che grande, che caricato meravigliosa gloria a Dio, gloria a Gesù pomodori, patate, già sono in fiori pomodori, questi pomodori sono quelli ingannati, che vanno in alto, per uno settembrino per uno settembrino per uno settembrino melanzane 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 per uno settare per uno settare pomodori cavoli, sparicello, broccoli zucchine, aglio, cipolle fragole, cipolle, zucchine, pomodori, albero di pesca, grandissimo, caricato. Guardate quanto è grande. Questo è un albero di ciliegie, grandissimo, meraviglioso. Mi faccio delle mangiate che mi diverto. Questo è albero di pruno, quello giallo, dolce. Guardate che alto. Anche questo è albero di pruna dolce, giallo. Guardate. Guardate. Sì. Qui c'è la zucchina. La sto proteggendo del caldo che sta facendo in questi giorni. Sì. Tomate. Tomate. Zucchina, quella lunga. Zucchina, quella lunga. La proteggo dal troppo caldo che sta facendo. Questo è sparaggielo. Zucchina. Zucchina, zucchina. La tomba. La tomba. Sì. Zucchina. Zucchina, zucchina. 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 Patate. Carotte. E patate. Carota. Pomodori. Tomate. tepe, teperancino, pomodori Pruno Settembrino, bello caricato, gloria a Dio dopo domani o domenica gli devo fare il lavaggio dappertutto ogni settimana faccio il lavaggio in tutto il giardino ecco questo è l'albero anche di Pruno ecco Pruno Pruno Questa è Fico, quella nera albero di Pruno 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 Perle Prtuno Sono tutti in maturazione. Guardate che grande e quante ce ne sono. Posso saziarmi solo con la frutta. Glorie a Dio, glorie a Dio. Pruno, albero di pruno. Questo è un albero di pesche. Guardate che è caricato. Meraviglioso. L'uva. Ciliegia. Questa me la mangio. Bellissima. Glorie a Dio. C'è un'altra regola. Me la mangio. Questa me la mangio romane. Questi sono tutti semi di broccoli, cavoli, sprecello. Stanno facendo i semi per l'anno prossimo. Un po' molore. Un po' molore. Li proteggo da caldo. Ciocchina. Cucuccia lunga. Un po' molore. 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 Ma tutto va alla gloria di Dio. Glorie al Signore. Il Signore ci ha benedetti. Adesso voglio pregare. Per ringraziare il Signore per quello che ha fatto per noi. Padre Santo Dio d'amore. Nel nome di Cristo Gesù. Ti voglio ringraziare. Ti voglio lodare. Ti voglio benedire. Per tutto quello che tu hai fatto. Ancora oggi. Per tutti noi. Benedici tutta l'umanità Padre. Fai che ogni ammalato possa guarire. Fai che ogni ammalato possa trovare la grazia e la forza. di essere assistito da te Padre. Grazie Padre ancora. Che puoi svegliare tutti quelli che sono in goma. E dargli la possibilità di guarire. E di essere ancora pieni di vitalità. Grazie Padre per questo che tu fai. Ti ringraziamo Padre. Nel nome di Cristo Gesù. Il Santo. Che tu hai benedetto. In eterno. Amen. Gloria Signore. Ora giro la camera. Cari nella grazia di Dio e di Gesù. Oggi vi ho mostrato ciò che il Signore ha dato ai Suoi figlioli. Chi lo prega. Dio gli dà possibilità di essere santificato. Aiutato. Sostenuto. Nella grazia sua. Nella grazia del suo figliolo Gesù Cristo. Questa è una grande gioia per me oggi. Dirvi. Inginocchiatevi. Inginocchiatevi alla presenza del suo figliolo Gesù. perché potete usufruire di tutto quello che il Signore vi darà. Adesso mi sono seduto e voglio dare alcune informazioni globale. informazioni che potrebbero aiutarvi. Io ho un sito in internet che è nominato ed è famoso. Si chiama www.gesulalucedelmondo.it Digitando questo sito www.gesulalucedelmondo.it troverete tutto quel materiale che avrete bisogno per evolversi in Cristo Gesù. Per guarire. Per essere sanato. Non perché questo sito è mio. Ma è guidato dallo Spirito di Dio e di Gesù. Io sono uno strumento nelle mani di Dio e di Gesù. Tanto che mi ha nominato servo dell'Eterno. Questo nome meraviglioso. Ne sono fiero. Di essere un servo dell'Eterno. In più. Altre informazioni. Entrando nel mio sito. Troverete. Nel primo link. La foto. Di un. Un cif. Che. Si aprono moltissime foto. Della. Chiropratica. Darmstadt. Darmstadt. Rheinheim. Rhinheim. Darmstadt. Fra cui la dirigo. Personalmente. Questo link. e si tratta di chiropratica digital pressione rilassamento muscolare e mentale chi soffre anche di atrosi cervicale, ernie a disco, lombari e di qualsiasi genere che è in difficoltà nel corpo può telefonarmi o scrivermi in whatsapp, prendere un appuntamento anche che in distanza può venire e provvederò con l'aiuto del Signore di fargli alcune terapie che ha di bisogno. Vi dico che già dal primo inizio della terapia avviene un miglioramento globale, si avverte già un inizio di beneficio. E proseguendo troverete la salute. Io ho messo alcuni video nella pagina per poter capire ciò che sto cercando di inserire nei vostri cervelli, nelle vostre menti e nel vostro essere. In più, un'altra informazione, tutto questo che vi sto dicendo è tutto gratuito, si richiede soltanto alla fine di ogni seduta, di ogni beneficio, un'offerta. Grazie. 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 Grazie.